La dottoressa Cicchetti Si legge adesso la motivazione per l'artista Giuseppe Pascoletto che è in sala. Eccolo. Allora si può avvicinare con il nostro applauso e la dottoressa legge la pratica. Le sue opere redatti su cartoncino, disegnate a matita, riesce a rappresentare i sentimenti e le emozioni che aggiorano dal profondo io. E' un sogno poetico che diviene in realtà leggente negli atteggiamenti delle sue fanciunze che incedono serene nella strada dell'amità. Opera brignata a Monsignor Pugliano Ancora un saluto a... Un attimo che vediamo... Ok, quindi cataloghi. Grazie a te. Ancora un saluto al slide. Grazie a te.